Oggi insegniamo alla mia ragazza a usare la console Sono pronta L'obiettivo sarà quello di farle mixare due canzoni Vediamo come se la caperà Vamos Devo assicurarti che i BPM delle due canzoni siano uguali E far partire la seconda canzone nel drop della canzone che sta andando Ok Questi sono i volumi dei due canali Ok Questo è il tasto play Questo è un effetto che ti servirà per sfumare la canzone Ok E questi sono i bassi No no Ma sbagliate Mi facciate Bravissimo Seguici e lascia like Se volessi la parte 2 Seguici anche su Instagram Chiacciola Marco e Mattia